Un saluto a tutti i clienti di Eskamo Shop, in questo video vi presentiamo una busta sottovuoto con misure da 90 cm a 120 cm, cioè il lato più lungo è 120 cm e il lato più largo è 90 cm. Sottovuoto perché vedete stesso dalla figura, che vi rappresenta un tubo di un aspirapolvere che in pratica va a collegarsi al beccuccio posto su questa busta per andare ad aspirare l'aria. Quindi ecco, tutti gli indumenti che andrete a mettere all'interno di questa busta verranno in pratica schiacciati dal risucchio dell'aria, quindi acquisiranno un volume veramente molto contenuto. Allora, vediamo all'interno della confezione che come si è in alto. Ecco qui, abbiamo la busta fatta in plastica, ecco qui, fatta in plastica ha anche sopra un bel logo della busta stessa. Quindi, a prendere la busta ci accorgiamo che sul lato abbiamo questo surco, in pratica, che vengono montati uno l'uno nell'altro per andare a sigillare nel giusto modo la busta. Se sentite, ecco, all'interno della ripresa ci sono proprio gli TAC che vengono fatti da questi due binari che vanno a mettersi l'uno nell'altro. Questo qui è il tubo di aspirazione, come dicevo, è il tubo, basta svitarlo prima, andare ad appoggiare il becco dell'aspirapolvere sulla parte superiore dell'attacco e andare ad aspirare tutta l'aria in eccesso all'interno della busta. Quindi i vostri indumenti acquisteranno un suo spessore veramente molto, molto sottile. Ideale per il cambio di stagione, il cambio dove andate a prendere tutti gli indumenti che non metterete durante quella stagione e andarle a riporre in uno spazio molto, molto ristretto, andare a riporre una quantità di indumenti veramente infinita. Bene, con questo ho concluso il video, ringrazio tutti i clienti di Escamoshop per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima. Iscriviti al canale Grazie a tutti